Siamo con il direttore sportivo della Maglia Rosa Tadei Poga, c'era allora Fabio, dopo la prima tappa con Europa abbiamo visto Tadei rimettere un po' così la chiesa al centro del villaggio, tappa Maglia, adesso si prosegue questo giro d'Italia con la pioggia, queste prime frazioni, verso la tappa degli Serrati, verso Rapolano Terme, tappa 6, altra insidia importante sul cammino di Tadei. Sì sicuramente, è una delle poche tappe che abbiamo fatto la ricognizione, non è niente di particolare però come hai detto tu ci sono insidie soprattutto nel finale tra esterrati, non i più duri che si fanno alle strade bianche però tecnici e le insidie sono proprio quelle di essere fuori dai problemi e di andare all'arrivo senza nessuno in topo. Poi chiaramente il meteo come sempre potrebbe anche incidere nel bene o nel male, insomma a seconda anche delle situazioni, tappa degli Sterrati, poi subito dopo cronometro e subito dopo ancora preditivo, quindi una tripletta diciamo così tra tappa 6, tappa 7 e tappa 8 dove veramente si può, non dico decidere il giro però insomma per voi è un bello step. Sì, è il prossimo weekend dove ci sarà uno dei passaggi fondamentali di questo Giro d'Italia, anche per questo sono due tappe che le poche che abbiamo fatto ricognizione, anche la Crono stessa l'abbiamo vista, Prati di Tivo si conosce dalla Tirreno, l'ha già fatta e dovremo essere là all'altezza come ogni giorno, non bisogna neanche sottovalutare gli arrivi in volata perché bisogna essere attenti e fare attenzione a ogni inconveniente. La maglia rosa, avere la maglia rosa chiaramente è un onore ma anche un onere, a livello diciamo di pressione, la domanda un po' che in molti si ripetono ma adesso Pogaccio durante la corsa, durante il giro lascerà in buone mani diciamo tra virgolette la maglia rosa per poi riprenderlo oppure conoscendo anche Tadei, insomma tu lo conosci molto bene, la vuol tenere fino a Roma e anzi lo dovete tenere anche un po' a freno visto le sue esuberanze. Ma è abituato a essere leader nelle corse a tappe, il giro è il suo primo, però i meccanismi sono gli stessi, logicamente non andremo a correre dietro a tutti, soprattutto in queste tappe intermedie, andiamo a vedere chi cercherà l'avventura, facciamo anche fede che c'è una schiera nutrita di velocisti a partenza di questo Giro d'Italia e sarà una bella sfida, è un bel spettacolo anche vederli e sicuramente non si faranno scappare le tappe intermedie, le occasioni dove possono arrivare in volata. A Europa prima salita, seconda tappa, abbiamo già visto un po', insomma i corridori hanno svelato un po' le carte, abbiamo visto Thomas comunque in buona condizione, Connor forse ha fatto male a rispondere subito a Tadei, poi ha perso un po' di tempo, Bardet fuori dai giochi, insomma quali saranno i rivali principali secondo te, quali saranno i principali rivali di Tadei e poi se temi magari in un'alleanza trasversale tutti contro Tadei, visto che qui la forza di Tadei è subito. Questo ci può stare, alleanza anche sì, fa parte dei giochi, sicuramente Thomas è quello che ha l'esperienza, quello che era sul podio anche l'anno scorso, che sa andare per le tre settimane, per me rimane l'avversario, comunque l'uomo di riferimento e con una squadra forte attorno. Abbiamo visto bene Martinez, era andato bene anche in inizio stagione, ha preparato questo giro e sicuramente, e dopo non dimentichiamo comunque Bardet, il giovane, Irtbruck, ci sono sempre corridori che bisogna tenere in considerazione. Ultimo paio di domande, avete un velocista in squadra, Molano è un corridore veloce, avrà carta bianca nelle volate o tutti proteggeranno Tadei? Beh, diciamo che l'obiettivo è passare i tre chilometri, dove in caso di incidente viene neutralizzato il tempo, poi se va tutto liscio, perché no, Molano ha già avuto questo ruolo in altre corse, alla Vuelta, dove c'era Iuso Leader, e al UAE Tour, dove ha vinto tappe sia la Vuelta che UAE Tour, e quindi non lo freniamo, non possiamo sopportarlo al 100% con tutta la squadra, questo è ovvio. Questa è veramente l'ultima domanda, allora abbiamo accennato prima cronometro, sterrati, cronometro e pratititivo. Una firma, tre minuti di vantaggio sabato sera dopo pratititivo sul secondo, metteresti la firma o Tadei può fare molto di più? No, va bene anche due minuti, l'importante è che vada tutto bene, il pensiero è che la squadra rimanga unita, compatta e soprattutto che non ci siano intoppi, il tempo l'hai detto tu, cadute, incidenti meccanici capitano in tutte le corse e quelle sono sempre dietro l'angolo, bisogna essere pronti. All'inizio della salita? Sì, bisogna essere pronti, preparati a reagire senza farsi prendere dal panico. In bocca al lupo! Grazie Fabio!